L'anthurium è una pianta di origine tropicale e di facile coltivazione, teme il freddo, quindi si coltiva in appartamento, in vaso Necessita di un substrato ricco e sciolto, che lasci scorrere via la gran parte dell'acqua delle annaffiature, ma che rimanga fresco e leggermente umido, per simulare il clima tropicale Si utilizza in genere un miscuglio composto da terriccio universale, torba e una piccola quantità di corteccia sminuzzata Gli anturium si coltivano in luogo luminoso, ma a lontano dai raggi diretti del sole, che potrebbero cambiare l'anthurium o causare l'ingialimento del fogliame. Invece, una posizione eccessivamente ombreggiata e buia, porta ad una fioritura scarsa o del tutto assente Le annaffiature devono essere molto regolari, da fornire ogni volta che il terreno è asciutto, evitando di lasciare acqua nel sottovaso per periodi di tempo prolungati Ricordiamo di aumentare la frequenza delle annaffiature durante i periodi più caldi dell'anno e di diminuirle durante l'inverno Durante tutto l'arco dell'anno agli anturium giova a venire vaporizzati con acqua demineralizzata per mantenere alto il tasso di umidità ambientale Periodicamente controlliamo la pianta e rimuoviamo alla base i fiori epassiti e il fogliame rovinato con le forbici affilate e pulite Come accade per molte altre piante da fogliame, anche gli anturium tendono a dimagazzinare sulla pagina superiore delle foglie la polvere presente in appartamento Ogni 3-4 mesi ripuliamo il fogliame con delicatezza, utilizzando un panno in microfibra leggermente umido, in questo modo rimuoveremo anche eventuali parassiti